Agricoltura ancora al centro dell'iniziativa politica Vittoria dove ieri in tarda serata si è riunito il comitato. Riprendiamoci il presente a Palazzo Iacono. Il comitato di agricoltori e operatori della filiera agroalimentare ha incontrato il sindaco Peppe Nicosia e parte della giunta per dare seguito alla manifestazione di sabato scorso. Sono previsti nuovi incontri sia a Vittoria che nelle sedi ministeriali, anche se non subito. Il ministro dell'agricoltura Saverio Romano era disponibile a ricevere Nicosia già domani, ma il sindaco non potrà essere presente a causa della contemporanea prima convocazione del Consiglio Comunale che ratificherà la lista degli eletti e la riconferma del primo cittadino. La cosa importante è arrivare a livello nazionale, europeo e regionale con dei risultati per la nostra agricoltura. Ci impegneremo a fondo, amplieremo il raggio di azione della nostra protesta. Forse però a metà della prossima settimana Nicosia potrebbe riuscire a volare a Bruxelles dove dovrebbe incontrare Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Proprio dall'Europa infatti gli agricoltori si aspettano aiuti ben più seri di quelli arrivati sino ad ora che sono insufficienti e in buona parte inutili per il tipo di agricoltura che si fa a Vittoria e nel resto è la Sicilia. Serviranno a pochi, non a tutti come noi ci auguriamo e ci battiamo perché chi già aveva estirpato, chi per motivi non è adesso in produzione verrebbe penalizzato due volte praticamente da questo. Poi temiamo che in ogni caso i fondi sono molto pochi e che quindi non ci sia un ritorno, un ristoro importante per le nostre aziende. Grazie a tutti.